Buongiorno da Mariangela Traficante, siamo al Recruiting Day di Nofrills, siamo con Daniela Cimone e Silvia Denini, recruiter per Costa Crociere. Vi chiediamo subito un primo bilancio di questi due giorni di incontri con i candidati, come sta andando, che tipo di profili state incontrando? Il bilancio è stato molto positivo, abbiamo trovato dei candidati molto preparati sia in ambito turistico che a livello di conoscenze linguistiche, che sono poi uno dei nostri requisiti principali. Abbiamo notato una buona preselezione da parte dell'ENTA che ha organizzato questo tipo di Recruiting Day, quindi siamo molto soddisfatti in merito. La giornata e le due giornate devono ancora terminare, quindi ci aspettiamo di trovare ancora molti candidati da poter impiegare a bordo delle nostre navi. Ecco appunto, sulle navi Costa Crociere e nel mondo Costa in generale, quali sono i profili professionali più richiesti e le competenze che cercate? Sì, cerchiamo numerosi profili, si tratta di profili anche molto diversi tra loro, quindi profili di hospitality, profili di animazione, tecnici del suono, tecnici delle luci. Ma anche cuochi, pasticceri. Una competenza fondamentale che le riunisce un po' tutte è la competenza linguistica, quindi fondamentale per noi l'inglese, ma ben vengano anche altre lingue, quali il francese o il tedesco. Abbiamo riscontrato numerosi profili buoni qua alla fiera e siamo quindi pertanto molto contenti e ne aspettiamo altri oggi e staremo a vedere. Grazie, buon lavoro.